Grazie per i non iscritti. Onorevole Severin, un minuto e trenta. Non è solo la pressione dei altri, ma è solo i nostri amici. Il ministro giorgiano apparemmente considera la stessa opzione. Belaruse è perdita per la scoperta dogmatica di alcune delle nostre polizioni. Azerbaijan sarà perdita perché l'EU non è capito vedere la importanza strategica di questo paese, che non è cercato per l'argento, ma per una parceria politica e per la sua integrità territoriale. Quando Russia mette pressione sull'Ukraine per non signare l'associazione con noi, si conosceva qualcosa che non sappiamo, apparemmento. Inizialmente che l'Ukraine è strategicamente cruciale, e che i valori seguono il sottolineamento del giostrategico gioco, non l'altra parte. Quanto crediamo che la regetta e la harassa l'Ukraine potrebbe rimanere neutrala? Inizialmente mettiamo in jeopardy la promozione dei nostri valori e la sicurezza geopolitica dei nostri cittadini. Non è vero di scoprire la Russia. Inizialmente, dobbiamo essere più robusti e pragmatici nella nostra politica. L'Unione Europea in Vilnius offrirà un'opportunità che non dovrebbe essere perdita. Grazie. 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 Mr. Severin, do you accept the blue card? Please, Mr. Brock. Grazie. 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 Grazie.